Il musico si apre con la stessa scena del finale dell'opera precedente, Sanna. Siamo nella stanzetta dove padre Sanna in i suoi ultimi giorni e dove in solitudine conversa con il suo angelo custode, che gli fa iniziare come l'istituto da lui fiindato fiorirà nel tempo. Ma questo momento di contemplazione viene bruscamente interrotto dall'entrata in scena della maestra delle novizie, che busta la boccia, entra nella stanzetta e si lamenta con padre Sanna per il comportamento di una delle novizie, Amalia. E lì, padre Sanna, contro tutte le previsioni, profetizza, quella, sua la sarà. A questo punto, l'angelo custode rivela che, nelle vicende di Amalia, che il musico sta per raccontare, sono racchiuse le vicende spesse nella congregazione, perché le gioie e le lotte di Amalia sono le gioie e le lotte di ciascuna delle figlie, in una meravigliosa storia di amore e di maternità. Grazie. Applausi. 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 Il tramonto lo so Angelo custode raccontami che cosa sarà Delle figlie del cuore mio Delle anime amanti e fervide che ho raccolto in lui Vieni ti mostrerò le gemme Che pian piano lo spirito sbocciare farà Meraviglie impensabili Fiori nuove corolle, petali neri Grida di bimbi nell'eterno stupore La primavera, ali di luce, libertà che nessuno potrà mai contenere No, perché lo spirito che fa la storia col suo alito Piareggia sulla terra Nelle mani di lui Giavità nei disegni di lui Demoni nuovi Immaginabili canti, volti, colori e vie che lui soltanto sa Madri come Maria Saranno Sotto azzurro di Dio E lo vedranno Ovunque c'è da curare i cuori Da prendere per mano per la strada Qualcuno bussa alla mia porta e mi desta Vieni, maestra, delle novizie racconta Padre, no Non tutte le novizie per me Sono compunte come si addice Ce n'è una che poi Voi lo sapete, quella proprio non va Eppure quella suora sarà Che dite mai Che dite mai A quella piace ridere E poi Fa scherzi a tutti e non si trattiene Padre, come si potrà Immaginarla in un convento Lei no Eppure quella suora sarà È figlia tua E nella sua storia Tu vedrai la storia di ogni scuola Nelle sue lotte rivivrai Nelle lotte di ciascura In ogni anerito L'anerito rinnoverai Dei cuori Dei cuori Dei tuoi figli Madri come Maria Saranno Sconto azzurro di Dio E lo vedranno Ovunque c'è Da curare in cuori Da prendere per mano Da tendere una mano Di male che produce Nella vita L'umanità 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 Da prendere per mano Da prendere per mano Di male che produce